Bella a tutti ragazzi, qui è Raco, il terzo youtuber di Backembog, è il quarto video che proviamo a fare ma faccio sempre qualche cavolata Adesso proviamo a fare una partita in TCT su questo bellissimo gioco chiamato Call of Duty Black Ops 2 Vorrei precisare un paio di cose, io sono l'unico dei tre che non ha la Playstation, quindi fanno giocare me, lo vedo è cosa buona e giusta Perché ci ha dato 5 euro Si vede benissimo, non diciamo cazzati che non c'abbiamo Oh il piede Allora siamo qua in tre, Jack Spider a Conta Roby Abbiamo provato a fare un video su il moto, però è successa una cosa pessima Ma l'hai già detto nel video precedente, ma colore Ce l'hai su con sta cosa, ti piace ucciderla gente? Ma deve stare un mese ingessato per colpa mia Vabbè adesso faremo una partita, proverò a usare un po' questa classe DSM con un cecchino E vediamo un po' cosa viene fuori Naturalmente in TCT, c'è un maestro prestigio ragazzi Tutti contro tutti Ah, dite con tutti contro tutti È più stiloso dire TCT Mi raccomando ragazzi scrivetevi, lasciate un like, commentate se vi fa cagare il video Così, no, faccio guarda, faccio uccidere Adesso inizia il grotto positivo, concentrato, facciano lo schermo, concentrato, concentrato, cuffie, concentrato Fai vedere il joystick, fai vedere il joystick Giusto uccide un cane in the way around in a vivo Col joystick attaccato alla Playstation perché è scarico Perché c'è giocato troppo? Ecco ecco ecco, iniziamo con... Ciochino, 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 ciochino Ma qua devo uccidere qualsiasi cosa che si muove Sì, tutti Va che uno ce l'è adesso secondo me Sì, guarda Ma dillo questo È bene che io sono pesmo, ma tu sei peggio di me Ragazzi l'unico cecchino che ce l'ho fatto a fare ora perché gli altri proprio zero No, sicuramente non avevo neanche fatto il pelo, ma neanche lontanamente Non ti ammazzano Ma mamma, io non è che non mi ammazzano, io sono già morto Ancora come inizia la parchita, sono già sotto il ricento Ecco Dai, vediamo se è esattamente l'inchio da fare Ce la farò Guardalo che è ancora lì Che nezza Ah no, non ci sta È là, è là Ma è schifo, adesso lo ciappo, lo ciappo, lo ciappo davanti dietro e resta sinistra anche il suo in giù Marco, non è? Fa chiaccare Guarda lì Ma no! Uno l'ho fatto che sono No, sei negativo Lo sento un po' sotto a zero Ma non è possibile che siete in ogni angolo fermi immobili a guardarvi le scarpe Guarda, 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 adesso non lo tolgo più Anzi, l'ho ammazzato infatti Usiamo l'arma seria Ma metti sto fucile a pompa Guarda, guarda Guarda, guarda Eccolo, eccolo, eccolo Garnetta Dai vediamo se ce la fa adesso Ma la s'ambatta Quasi metto s'ambatta Ah! L'ho preso Guarda, su pure l'arma vaga Guarda, eccolo, eccolo, eccolo Eh! Ma cosa urli? Ah! Eh! Come l'ho preso? No! Allora, adesso lei cerca sento spagno mi piace sono sincero guarda adesso muore ecco quello lì me l'ha ucciso, mi ha fatto un favore di qualcosa che vuole no, non mi ha fatto nessun favore no, guarda, tu devi capire non ci esprimiamo, che quando l'oggetto si muove c'è il computer che sta morendo ma che cavolo stai facendo questo computer? ma però non è giusta sta cosa, è sta goneria c'è qualche mago strida che mi ha fatto una magia ma quello come cantera? ma anch'io canterò a quel posto fare una cosa saggia non ci sta, non ci sta non ci sta, non ci sta, non ci sta nessuno da notare la concentrazione e da notare la pistolina silenziata no non ci sta messa lì ancora qui, ancora qui, ancora qui muovi, no, no c'è 20 colpi per ammazzarne uno che quando un oggetto è in movimento devi muoverti adesso guarda che andiamo a tirarlo fuori dalla tana adesso muore guardalo qua, guardalo qua, guardalo ho sbagliato tasto poi gli hai lanciato la flashback non ho sbagliato tasto te quando entri vai dentro con la granata è il tuo risfondamento non ce l'abbiamo uno di quei bei scudoni da c'hai uno dietro, vorrei dire no, non hai uno dietro nessuno ti ho accoltellato l'orecchio ti ho accoltellato l'orecchio ti ho accoltellato l'orecchio no, ti arriva uno no, ma guarda da dietro arriva io ho la figura di merda che fai eh, no cosa ti abbiamo detto, cosa ti abbiamo detto 5 e 15 ragazzi, lasciate un like perché se volete un altro episodio facciamo, facciamo cagare su eppiumi facciamo cagare facendo i video dai mazzalo ma come fai è morto, è morto vorrei far notare che è morto ragazzi, adesso facciamo una sfida e dopo cambiamo e giochiamo io e un tarobi ma non sarete mai fotti la metà di me ma neanche ma non va bene dire un quarto di me sì, ma la metà guardalo qua guardalo qua guardalo qua guardalo lì si vede che è riflesso torniamo adesso che è iniziato a fare un attimino di cose belle torniamo a fare il macello quello quanto deve arrivare la partita? 30 e... top primo sono a 70 e 17 sono a 70 e 17 non so neanche dove ho oh no l'avevo preso devi sapere che devi sparare non è che sparare non devi fare il marker capito? ti credo che non basta mirare per uccidere mirare per uccidere però va bene che tu sei forte però se ti hai dietro un cespuglio guarda che posizione sei schiacciate e sto a 7 stavo a ultimo